Presidente Trarettino, siamo alla vigilia di un giorno importante che è quello di domani che la vedrà protagonista a Palazzo Reale con altri protagonisti del mondo imprenditoriale nazionale. Sarà anche un'occasione per tracciare un bilancio dei primi sei mesi della sua attività al vertice di Confindustria? Sì, siamo particolarmente contenti perché domani saremo al centro come imprese nella provincia di Caserta nella riflessione del dibattito e in particolare perché lo faremo alla presenza del presidente di Confindustria e di altri illustri relatori. Sarà anche l'occasione per fare un bilancio dello stato dell'arte per le imprese del territorio e per guardare in prospettiva in un modo nuovo, quindi siamo particolarmente entusiasti di questa opportunità che abbiamo. Come sono stati questi sei mesi? Sono stati particolarmente impegnativi, però densi e pieni di attività, di prospettive, di progettualità che ci auguriamo di concretizzare nei prossimi tre anni. Il tema di questa mattina è l'arbitrato. L'imprenditoria casertana come la vede? In positivo? Siamo particolarmente contenti di questa iniziativa che è stata lanciata oggi dalla Camera di Commercio di Caserta. Siamo contenti che insieme alla nostra Università del Territorio viene lanciato questo Master di secondo livello perché l'unico modo per dare risposta alla domanda grandissima di giustizia che c'è è sicuramente quella di rinforzare gli organici e questa è una variabile che non è nella nostra disponibilità. Ma d'altro canto cercare percorsi di giustizia alternativa ed è evidente che la Camera arbitrale può essere una risposta. Quindi come imprenditori siamo particolarmente lieti di accogliere questa iniziativa. Grazie a tutti.